guardate là c'è portatile andiamo a vedere che cosa fa ho fatto un quadro vorrei vedere altri quadri buona idea andiamo al museo fate silenzio mi raccomando davanti a questi quadri mi è venuta fame hai ragione senza nome per mangiare andiamo in giardino alla merenda ci penso io io non mangio la frutta non la voglio neanche assaggiare che bel piatto ora me lo mangio affiggerò il quadro di portatile dentro al mio museo se nel piatto il cibo è colorato a mangiare sono molto più invogliato grazie